Musica Un movimento di legittimo Papini Circa Muscardelli Che di petto Serve Salvi Che aveva cercato Infiltrante per Lepore Ancora dentro per Salvi Di tacco dietro Il 3 a 0 Del Lecce Di Capitan Papini Esplode lo stadio di Via del Mare Grande inserimento di questo centrocampista Che ruba il tempo a tutti E mette sul palo lungo Una palla imparabile Minimetrico questo colpo Forse calciato di 2 Con l'interno del piede Adesso vediamo E guarda qui che giocata Franco Lepore Eh si lo piazza proprio Lo piazza con l'interno del piede Tiro comunque Forte ma preciso Ma tu hai detto un 4 Secondo me sta giocando con un 4-8-3 Adesso la Il Catanzaro Perché Bernardi è passato A fare il terzino E praticamente in avanti Gioca Razziti Firenze E Mancuso E il quarto gol quest'anno Per Capitan Romeo Papini Giocatore nato a Roma Che Ha compiuto 33 anni proprio Quest'oggi Bel regalo di compleanno dunque Per Papini M அ Emanuele 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 Grazie a tutti.